Il meridiano fondamentale è quello di Greenwich. Il parallelo fondamentale è l'equatore. La latitudine indica la distanza dall'equatore. La latitudine indica la distanza dal meridiano di Greenwich. Il planisferro è una carta geografica che rappresenta su una superficie piana l'intera superficie terrestre. Il reticolo geografico è l'intreccio tra meridiani e paralleli. Il reticolo geografico serve a trovare un luogo sulla Terra. Si può chiamare l'emisfero nord o l'emisfero boreale e l'emisfero sud o australe. La leggenda è una serie di simboli con i relativi significati. Le carte tematiche illustrano l'aspetto di un territorio. Le carte politiche rappresentano l'organizzazione dell'uomo che è adatto al territorio. I colori vengono usati nelle carte fisiche. Il marrone per le montagne, il giallo per le colline e il verde per le pianure. Il blu per i mari, i laghi e i fiumi. Nelle carte politiche, i colori hanno lo scopo di distinguere le diverse zone. Indica che un centimetro nella carta corrisponde a 100.000 centimetri nella realtà, a mille metri. Il blu per i mari, i colori hanno lo scopo di distinguere le diverse zone. Il blu per i mari, i colori hanno lo scopo di distinguere le diverse zone.